buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del caffè della salute con cucina naturale oggi siamo in compagnia di barbara sprea che è una dietista giornalista di cucina naturale buongiorno barbara benvenuta grazie oggi il nostro calice che ci abbiamo sul bancone ce lo preannuncia parliamo di apericena questa magnifica mondo del aperitivo in compagnia molto bello ma come possiamo farlo in maniera sana e equilibrata diciamo che possiamo trovare un compromesso ok la parola sana l'accantonerei un pochettino allora innanzitutto cambiare il nome allora l'apericena in realtà è una cena non è un aperitivo è una cena sotto forma di aperitivo quindi di tanti stuzzichini dobbiamo considerarla come una cena e molto spesso anche accompagnata da un pochino di alcol diciamo che è una cena alcolica meglio dire ecco quindi naturalmente se non lo facciamo una volta al mese possiamo anche farlo liberamente se però per ragioni sociali conviviali comincia ad essere una o due volte a settimana ovviamente può avere un impatto anche notevole sul peso mi dicevi l'alcol è particolarmente calorico sì allora normalmente noi non percepiamo le calorie di ciò che beviamo cioè non ci pensiamo no? non ci pensiamo con le bevande gassate e non ci pensiamo assolutamente con gli alcolici per fare un esempio questa è la tipica è la classica porzione di vino cioè 100 di quella standard che è di 120 ml e corrisponde più o meno? corrisponde mediamente a 100 calorie 100 calorie sono come 30 grammi di pane quindi per cui bisognerebbe già quando si va a una pericina decidere quanto si beve e non bere diciamo 3 4 5 bicchieri perché comincia a essere già una buona porzione oppure alternare il vino a bevande che non hanno l'impatto non dico l'acqua frizzante con limone ma magari il succo di pomodoro condito è praticamente a calorico ed è buonissimo e anche sfizioso alcuni consigli alcune persone che consigliano di mangiare prima di recarsi all'aperitivo perché è vero? sì allora questa cosa viene tante volte anche consigliata prima di andare a mangiare al ristorante cioè l'obiettivo è non arrivare mai troppo affamati perché più si arriva affiamati e poi si stramangia ancora peggio nella pericina quando c'è una disponibilità libera di cibo quindi anche scegliere il posto giusto meglio no? quello all you can eat sarebbe meglio perché ovviamente è un meccanismo psicologico io pago e quindi mangio da fondo al buffet ma quindi quali posti scegliere? sì posti scegliere dove appunto magari la qualità è buona dove si mangia si può dosare meglio il cibo e quindi non ti danno solo pizzette o patatine a proposito delle patatine stare anche molto attenti ai cosiddetti trigger food e le patatine spesso lo sono patatine olive noccioline arachidi quei cibi che non sappiamo limitarci assolutamente quindi bisogna stare molto attenti se non si sa resistere meglio non metterli nel piatto così meno non si cade in tentazione oppure se si sa resistere mettere una minima porzione assolutamente sì quindi allora attenzione agli alcolici attenzione trigger food selezionare locali dove non ci si può abbuffare perché c'è un buffet troppo abbondante e dove magari la qualità nutrizionale è anche un po' alta tipicamente i locali migliori hanno anche offrono anche tante verdure crudite magari del pesce insomma delle cose un po più leggere grazie mille barbara di tutte queste informazioni sulla pericena e alla prossima puntata di cucina naturale con te e con i nostri amici a casa grazie arrivederci paolo grazie a tutti